Grazie Presidente, grazie agli intervenuti. Innanzitutto vorrei esprimere una condivisione di idee con il Professor Alleva per quanto riguarda una serie di questioni, in particolare per quanto riguarda la questione della legge delega, che essendo già è assurdo perché è poco determinata, è vacua in sostanza, e in più la cosa più vergognosa è che la legge delega si è posta anche la fiducia, non vi è chiara quali sono i contenuti di questa e sicuramente destra una serie di preoccupazioni. Io sono veramente molto preoccupato perché non c'è stato nella storia, come diceva lei, il fatto di aver messo la fiducia a una legge delega e per di più questo rischio di una crisi costituzionale si aggiunge a quelli che sono i temi trattati. Io sento parlare di emassionamenti, quindi una sorta di mobbing legalizzato, mi viene da definirlo, di spionaggio autorizzato, sono cose molto forti e mi riconduce alla memoria, qua invece se passo il discorso del contratto da tutte le crescenti, ad una carta del lavoro che magari qualcuno dei presenti conosce bene, che al punto 17 recita così. L'impresa di lavoro continua, il lavoratore ha diritto in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore. Cioè questa è la carta del lavoro del 1927, ventennio fascista, così, tanto per dirne una. A me interessava un parere del professor Alleva rispetto a come si sposa il contratto a termine dopo la modifica del decreto 34, che ha la durata dei tre anni, ricordiamo, cinque proroghe, comprensivo di rinnovi, senza la causalità, con quello che è il contratto unico tutte le crescenti. Cioè, mi spiego meglio, in qualche modo pare addirittura più sicuro, più vantaggioso il contratto a termine, pur essendo molto precario, rispetto a un contratto tutte le crescenti che pare che nei primi tre anni uno possa essere, pare perché non è chiarissimo, possa essere licenziato a qualsiasi momento. È un assurdo. Come mai il legislatore, cioè legislatura, il legislatore si fa per dire, come mai l'esecutivo fa un decreto su un decreto di questo tipo e dopo pochi mesi fa una legge delega che riforma ancora? Cioè, mi pare di essere nella confusione più assoluta. O sono matto io, o invece c'è qualcosa effettivamente che non va. Mi interesserebbe un'opinione di un tecnico, del professore. Io ogni volta ci provo, faccio un appello ai colleghi della maggioranza del PD, veramente fate qualcosa perché qua la situazione è veramente precaria, è veramente pericolosa anche per la democrazia del nostro paese. Grazie.